Ricerca e innovazione, due parole entrate prepotentemente nel gergo delle imprese che vogliono competere sul mercato, soprattutto in ambito internazionale. Per innovare prodotti e processi però occorre conoscere e cogliere tutte le occasioni offerte dalle istituzioni nazionali ed europee in termini di finanziamenti. Per questo Confindustria Chieti Pescara ha organizzato un seminario in programma il 28 novembre alle 16.30 nella sede di Via Raiale. È un ottimo momento per fare ricerca e innovazione anche per alcune misure che sono contenute nella legge di bilancio con incentivi che però sono esattamente di natura fiscale, quindi automatici che non prevedono quindi gare e bandi ma in cui le imprese possono già pianificare un loro percorso di crescita e di innovazione. Per innovare c'è necessità di fare rete tra le imprese, centri di ricerca ed università, una pratica in Italia percentualmente ancora lontana dai benchmark internazionali. Nel corso del seminario sarà portato dunque l'esempio di un'eccellenza tra le imprese abruzzesi, la fameccanica, che illustrerà alle imprese, soprattutto piccole e micro, le buone pratiche che l'hanno portata a sfruttare i contributi europei per innovare il proprio prodotto nel settore dei macchinari per la produzione di pannolini. L'esperienza che portiamo è quella della possibilità di accedere facilmente ai fondi europei nell'ipotesi di un progetto sostenibile, quindi un progetto reale che serve all'azienda e che serve alla comunità europea. Non esiste difficoltà ad accedere a questi fondi qualora l'idea di progetto è un'idea di progetto valida. Che cosa significa oggi innovare e competere sui mercati internazionali? Innovare significa guardare il mercato e quindi guardare i clienti e nello stesso momento presentare qualcosa che è recepibile dal mercato e recepibile dai clienti.